22. Incomunicabilità Da che cosa è causata l'incomunicabilità tra due persone? Commento Dalla differenza che esiste nella fascia molto larga della loro evoluzione medio-bassa. Infatti, se tra queste due persone ce n'è una che inizia ad avere un certo sentire, farà di tutto per comprendere l'altra e l'incomunicabilità si ridurrà o cesserà di esistere.